8.33 minuti, ultima mezz'ora ed è la mezz'ora. Ed è la mezz'ora degli ospiti, oggi ai nostri microfoni abbiamo Davide Borghi, consigliere Municipio 4. Ciao, buongiorno, buongiorno a chi ci segue da casa. Buongiorno Davide, consigliere Municipio 4, perché parliamo oggi del Municipio 4, perché ne abbiamo già parlato, anzi con te in collegamento telefonico qualche settimana fa, insomma, cittadini un po' sul piede di guerra per via della nuova M4, davvero tutti contenti, e invece no, perché sei tu, fai una roba, ne scontenti altre volte, perché hanno spostato, scusa, ti stavo dando dei meriti o colpe che non hai, hanno spostato alcune linee, tra cui la famosa 73 e i cittadini un po', insomma, si sono inalberati. Cosa è successo invece lunedì? Sì, nel lunedì ci siamo trovati in commissione congiunta tra quella comunale e quella municipale, quindi commissione mobilità evidentemente, e la sala dove eravamo, che è la gremita di una chiesa nel municipio, era un gremita di persone più di 200, se non vi so dire i numeri precisi, perché poi ho condotto e non seguivo, diciamo, da dietro le quinte. È stata una commissione penso importante, il focus era l'ascolto, il Presidente Monguzzi ha voluto convocarla per ascoltare i cittadini e le cittadine, sono state 20 più o meno le persone che hanno parlato al microfono, chi con toni più accesi, chi in modo più pacato. Le conclusioni di questa commissione sono state, anzitutto, la presa in carico di un problema, nel senso che eliminare una parte di una linea che per 20 anni ha servito uno degli assi più importanti, più abitati, più trafficati a livello commerciale di Milano è stato un problema evidentemente. Ricordando però che la navetta della 73, perché parte come navetta nel piano di bacino 2018, serviva a collegare centro e aeroporto, quindi poi le persone chiaramente l'hanno utilizzata, ci sono affezionate, qualcuno addirittura diceva che i tre signori parlavano su questo mezzo, una sorta di ritrovo, come un centro di aggregazione multifunzionale, quindi è una cosa abbastanza sui generis, però ecco. Perché la M4 e la 73 fanno lo stesso identico percorso? No, questo è il tema, cioè M4 collega Linate, adesso fino a San Babila, arriverà poi fino a San Cristoforo, però l'asse che percorre è quello di Argonne, Plebisciti, Indipendenza, Concordia, invece la 73 percorreva l'asse, diciamo, di 700 metri più spostato verso il centro, diciamo, verso sud. Esatto, il 22 marzo. Esatto, Corsica, il 22 marzo, Porta Vittoria, e poi arrivava fino a San Babila, quindi è questo il tema, cioè le persone ti dicono, noi non riusciamo ad arrivare, i anziani, le persone fragili, le persone con disabilità, le persone con i passeggini, mamma e papà, noi riusciamo ad arrivare fino ad Argonne. Perché 700 metri, che sono per te nasieri, niente, li fai così saltellando, saltando i fossi per il lungo, ovviamente per alcuni cittadini sono tanti, è quasi un chilometro, cioè. Sì, sono tanti e quello che noi abbiamo provato a fare sintesi lunedì è stato, da una parte, ricordare quello che è stato fatto, perché non è che si hanno passati quattro mesi in vano, noi abbiamo ottenuto la 973, che è la sostitutiva della 73, fino, in questo momento, a pezzare lo video. E l'obiettivo è portarla almeno fino a Via Colbe, per avere un interscambio efficace con il tram 27. E poi, quello che abbiamo ottenuto per ora, è un'alternanza tra Sirio e Jumbo, che sono le due tipologie di tram, che permettono, il primo, un'accessibilità maggiore, perché è a pianale ribassato, e il secondo, è il classico tram che tutti conosciamo. C'è capito? Cioè, possiamo fare una notte per fare l'interscambio col 27, neanche col jet, col 27, cioè, che uno dei tram, scusatemi chi avete lì, ma veramente è un disastro quel tram, cioè, che arriva là in fondo, che non è dimenticato da Dio, dagli uomini, cioè, vabbè, comunque, hai detto, hanno reagito in maniera, alcuni pacati, alcuni meno. Sì, beh, c'erano cittadini che gridavano, io dicevo, guardate, che già si sente al microfono, c'è tutta la sala che rimbomba, evitiamo, e cittadini che invece hanno essenzialmente ripercorso quello che persone molto più anziane, che non potevano essere lì, hanno trasmesso loro. È stata una commissione, ripeto, importante dal punto di vista dell'ascolto. Mi è spiaciuto che nei primi 15-20 minuti, quando noi abbiamo spiegato quello che è stato fatto, i costi, il TPL, a Milano costa un miliardo di euro, una finanziaria, l'abbiamo visto adesso, è di 25, quindi, capiamoci, sono soldi, soprattutto in un bilancio comunale che è di 3 miliardi. Quindi, se noi un terzo lo mettiamo sul TPL, vuol dire che ci teniamo tanto, e non abbiamo più finanziamenti dal governo che ci permettano di dire, noi abbiamo aumentato il chilometraggio, aumentateci anche i fondi. Quindi, è stato un po' spiacevole, perché i cittadini volevano subito parlare, e abbiamo provato a dare un quadro, e c'era molta fretta, quindi, ecco, è molto, molto sentito. Secondo me c'è una mancanza di attenzione, sicuramente da parte nostra, perché poi, se non ci ascolto, che è il tema di questo problema, si è visto quello che accade. D'altra parte, però, non c'è, secondo me, molta attenzione ancora, e spero in futuro ci sia verso le istituzioni, perché poi il rispetto deve essere, diciamo, bipartisan, tra virgolette, o comunque da entrambe le parti. Che fatica, però, mi viene da dire, no? Perché, insomma, dover difendere certe scelte, o comunque spiegarle, magari non difendere, perché non è che, mi sembra che tu sia così contento di quello che è stato fatto, no? Giustamente, anche tu sei da parte dei cittadini, in questo caso. Anche perché mi muovo anch'io, io l'ho detto all'inizio della commissione, cioè noi prendiamo i mezzi come voi, noi viviamo il quartiere come voi, e forse qualcuno a Palazzo Vino sicuramente non ha contezza del problema, perché magari vive altrove, perché non percorre quel tratto, ma è un errore di valutazione che uno può fare, basta che poi venga a spiegarlo. Ecco, abbiamo provato a spiegarlo noi, perché non c'è stato, diciamo, un coordinamento fra chi doveva esserci, e quindi, appunto, ce ne siamo occupati noi. Questo è il problema sempre, il coordinamento, la comunicazione, no? Sì, tra chi doveva esserci, e abbiamo letto sui giornali chi ci doveva essere, e non c'è stato. Per i giornali grandi assenti ci sono stati? Sì, allora, Carlo Munguzzi ha scritto sulla commissione, sul foglio, sono stati invitati a TM e l'assessore a Censi, poi questi inviti, quando io invito qualcuno a casa mia, diciamo, gli vado a parlare, lo chiamo prima, se l'invito arriva tramite un'email mandato da una segreteria, è più difficile che questo arrivi fino in fondo. Ma qua parliamo di relazioni interpersonali, di cui io non mi voglio occupare, perché non sono questioni che mi riguardano, e quindi ecco, poi, ognuno ha le sue responsabilità, io, le mie me le sono assunte, anche perché poi la faccia ce l'ho messa e l'ho fatto con piacere, perché si chiama senso di responsabilità ai piani alti, chi, appunto, è invece in giunta, o comunque si occupa della mobilità comunale, ne risponderà nei prossimi mesi. Vedi, insomma, sempre così. La comunicazione, questo è il problema, andiamo avanti con la musica e poi torniamo subito dopo, dopo gli NSYNC, Justin Timberlake, Better Place, sempre qui, Crystal Radio. NSYNC, Justin Timberlake, Better Place, Crystal Radio, Good Morning Milano, con Davide Borghi del Consiglio Municipale del Municipio 4. Quindi, parliamo appunto di municipi, sempre un importante presidio sul nostro territorio, ma soprattutto, diciamo sempre, perché c'è qui il consigliere, forse dovrebbero essere quelli che veramente diamogli più potere a questi municipi e facciamogli diventare i sindaci dei nostri quartieri. Io ormai sono andato a questa conclusione. In quest'ottica, da domani, Davide sarà il protagonista di una nuova iniziativa, diciamoci, vuoi raccontare un po'? Sì, guarda, allora, beh, come poi in Partito Democratico sono iscritto a due circoli, uno non è nel mio municipio, l'altro è nel municipio 4. Pensa, chi troppo, chi niente. Chi non è iscritto, chi è iscritto a due circoli. Sì, sì, beh, perché uno è un territoriale e non potrebbe essere iscritto a due, l'altro è un tematico, cioè ci occupiamo di temi. Da domani partiamo con un tema che è un po' il filo conduttore anche del problema emerso con l'autobus 73, cioè l'ascolto. Avevo iniziato un anno fa a girare il territorio e le associazioni, che sono più di 200, sul municipio 4. Da domani lo facciamo in modo più istituzionalizzato, cioè verranno le associazioni 2 o 3, dalle 18.30 alle 20, in via Marcona 101 e ci occupiamo, ci sarò io, ogni tanto ci sarà Pietro Bussolati, che è consigliere regionale, di capire quali sono i problemi delle persone e di provare a risolverli. Io dico sempre che non abbiamo la bacchetta magica, però sicuramente siamo sul territorio, conosciamo le realtà, abbiamo contezza magari di bandi che le persone non conoscono, di opportunità e quindi cerchiamo di fare rete. Questa è la cosa importante, noi come consigliere municipali facciamo quello anche perché, come avete visto, sull'episodio della 73 non abbiamo poteri e diciamo le autorità che gestiscono poi il trasporto, i piani di bacino, la mobilità su gomma della città di Milano non siamo noi. Interessante come iniziativa anche perché non è vicino alle elezioni, quindi non è una cosa elettorale. No, no, ma ho iniziato subito dopo le elezioni del 2021, appunto girando il territorio, quindi non è finalizzato al voto, anche perché francamente alla fine del mandato noi poi se vorremmo candidarci ci ricandideremo, però non è proprio questo adesso il mio obiettivo, anche perché è la strada prima universitaria, che è quella che mi interessa perché sarà il mio futuro e poi municipale ancora molto lunga. Venga, non sarà un premierato il tuo futuro, non vedi questo, no? No, non lo so, io poi sulla riforma del premierato non mi sono informato abbastanza, quindi non potrei nemmeno dirvi quello che penso, però no, 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 anche perché nel paese democratico soprattutto c'è ancora quell'idea che sia un partito fatto di pluralità, di pluralismo e poi si vede anche negli scontri che ci sono e non dell'uomo solo al comando, quindi in questo caso del premierato. Scontri che ci sono dentro, dentro lo sottointeso, giusto? Sì, sì, però insomma il dibattito interno in realtà si è portato a dei buoni risultati, il problema è quando questo dibattito poi porta a far nascere 18.000 partitelli, però fino a ora adesso sono a Milano. E poi a livello comunale, diciamo sempre, è viva che ci sia la stabilità dei governi nei locali, eccetera, con le informe degli anni 90, eccetera. Però allo stesso tempo adesso veramente ognuno va nella sua direzione, noi facciamo la segna stampa tutte le mattine, tutte le mattine sentiamo chi va con... anche solo penso alla questione in consiglio comunale della bandiera di Israele, della bandiera di Palestina, della bandiera di Araba, cioè lì i lavori sono stati oggettivamente, non dico bloccati, ma rallentati per fare un documento, per condannare o meno qualcosa. È difficile per avere anche fiducia. Bravo, ma è quello, è quello che diciamo prima, la comunicazione, la fiducia. Infatti questa idea dell'ascolto che avete avuto è molto interessante, perché almeno ci si mette la faccia, ci si mette un po' di tempo, che la gente dice, oh, sei sempre di cosa, vieni con un attimo invece, ascolta dei problemi che ho, poi ovviamente non potete risolvere tutto, cioè ci mancherebbe nel senso, però almeno sapere portare avanti, parlare con chi magari può fare qualcosa, una bella iniziativa. Tra l'altro di consiglio comunale, ne abbiamo parlato ieri, consiglio comunale che alla fine è arrivato a una conclusione sul documento israelo-palestinese, ma che ovviamente ha visto rimandare tutte le altre questioni, tra cui la tua amatissima questione sull'estensione degli orari del Bike Me. Allora, la consigliera Cucchiara ha risposto a un nostro messaggio in cui la interpellavamo e ci ha detto che giovedì se ne discuta, quindi giovedì mi raccomando davanti alla TV, pop-corn... Ho detto che riguardi i consigli comunali, col per due ma riguarda. Senti, ti guardi il consiglio comunale, lo guardi in diretta, lo guardi dopo? Sì, lo guardo dopo. Ah, ok, poi guardo anche in diretta, con i pop-corn, ti metti lì, stasera dici alla tua fidanzata, stasera non Netflix and chill, consiglio comunale and chill. Sentiamo l'intervento di De Chirico al consiglio comunale. Così, De Chirico and chill, fai, va bene, va bene. Municipio 4, quali sono gli altri temi sul piatto in questo momento? Sono tutti così incazzati, però sono da 73 che non ce ne sono... Tutto il resto è passato... No, ma poi è una questione nel senso che secondo me è in via di risoluzione e lo ha dimostrato il fatto che abbiamo ascoltato per tre, quattro volte. Questa è la quarta, quinta commissione che si fa su questo tema. Io dico sempre, ricordiamoci poi qualche cittadino, l'ha detto l'altra volta anche molto ad alta voce, che abbiamo un territorio di 162 mila abitanti, ci sono altri mezzi che hanno subito variazioni, rivediamo anche quelli. Noi sul piatto abbiamo un sacco di grandi opere. È partita da poco Beic, dopo quel problema che c'era stato per la questione che riguardava Boeri, che riguardava la gestione dell'appalto, ed è partito. Quindi noi abbiamo avuto un controviale chiuso su Viale Morise e i lavori sono partiti. E quella è una grandissima opera per il quartiere Calvairate. È stata inaugurata la biblioteca di Calvairate 6-7 mesi fa ed è quasi a pieno regime. Abbiamo il conservatorio che andrà a Rogoredo. Abbiamo un'altra squadra di design che andrà nell'ex macello e quello è uno spazio enorme. Lo ricordo quando c'era veramente il macello ancora, adesso veramente sono in fase di lavoro in corso sulla parte della Vicunicolo, su Via Lombroso. Direi che le grandi opere ci sono, portano a riqualificazione di spazi, lo scavo di Porta Romana, che è una parte da noi, nella parte del Municipio 5, che ospiterà appunto le strutture delle Olimpiadi, esatto, delle Paralimpiadi. Abbiamo avuto una commissione ieri proprio sul posto per vedere come stanno andando avanti i lavori. Quindi diciamo che le grandi opere sono sempre il pane quotidiano, per fortuna in questo caso del Municipio 4. E non ci dimentichiamo poi di piccole cose come l'ascolto, come in questo caso la 73, o comunque di questioni legate alla quotidianità. Davide, tu sei un ragazzo intelligente, sei bravo a rispondere, devo farti la domanda per forza. La voce del padrone. Come siamo messi con questa costruzione in Viale Umbria? Viale Umbria è Municipio 4, sì, credo giusto, ok? Vogliono abbattere questo vecchio sgarbile? Sì, ho visto che si è mosso anche... Perché Vittorio sgarbile non ha di meglio da fare con che farsi di Viale Umbria, di Accomelico e quant'altro. Ma guardate, non c'ero tra l'altro quando venne votato quel documento per questioni proprio ero via, nel senso era lui. Non vale così. No, 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 è vero. Dopo vi posso dire quello che penso. C'è una linea... Io non sono in commissione neanche territoriale, ne seguo 4 su 6 e non ho il territorio o la cultura. Quindi è una questione che non seguo. Su 6 commissioni devi seguirne 4. E noi come Partito Democratico siamo in 13, quindi sì. Infatti ho usato la parola devi, non vuoi. Sì, sì, come proporzione, sì. E quindi ecco, ho seguito quello che è stato l'indicazione del Presidente Pepe. È una persona molto competente, fa l'architetto, si sta lavorando in magistrale, è un ragazzo giovane che ha tanta voglia. Quindi ho seguito poi quella linea e avrei votato in linea con il Paese Democratico e con la maggioranza. Non capisco come mai si arrivi sempre, ed è il caso della 73, il caso di questo palazzo in stile Liberty, a far venire fuori le cose il giorno dopo che è stato abbattuto. Non so come dire, se il problema c'è, se Vittorio Sgarbi si interessa, come ha messo il vincolo su San Siro, si interessa anche del palazzo degli ammuratori, che venga in municipio, che venga a parlarne. Perché laterare dalla Camera o dal Senato come sottosegretario fa un po' ridere. Poi noi ci occupiamo di parlare con la gente che abita lì vicino, in Viale Umbria, e che ti dice no, quel palazzo non va abbattuto perché ha un valore storico, no, quel palazzo non va abbattuto perché aumentate la volumetria in modo sproporzionato. Ok, però veramente, se le istituzioni devono essere tali, cioè ascoltare le persone, non parlino sui giornali, non vadano a blatterare per radio, ma vengano sul territorio, e io con Vittorio Sgarbi ci parlerei molto volentieri. Chiarissimo. Siamo arrivati alla fine già. Siamo già in chiusura, Davide, hai visto? Però ha risposto a tutto. Non ci venga detto che non facciamo neanche le domande scomode, ho fatto anche la domanda su Viale Umbria, che qui, insomma, l'ho fatta, l'ho fatta. Davide, ricordiamo l'appuntamento, velocissimo, hai in meno di un minuto per ricordare l'appuntamento di domani o stasera? Ah, domani, 18.30.20, ogni due giovedì, qua non abbiamo un consiglio di municipio. Ogni due giovedì, ok. Esatto, e vi aspetto, vi aspetto lì, poi io comunque... Dove? In via Marcona 101, M101, e appunto, a parte il circolo del PD, ma io sono un consigliere prima di tutto, e devo appunto aiutare tutti i 162.000 gli abitanti del municipio 4, non solo quelli dalla mia parte. 162.000, capito? Ed è un consigliere municipale. a Brescia si chiamano consiglieri comunali e il suo presidente sarebbe un sindaco, basta. Non dico nient'altro, andiamo avanti, dai, volevi salutare e dire qualcosa? No, volevo dire quello che diceva ieri Cherubini, il municipio 9 è quello più densamente popolato, 2 è quello meno densamente popolato e comunque è come la provincia di Brescia. Sì, infatti, infatti, come il comune di Brescia. Sì, sì, scusate. Grazie mille Davide Borghi, ci rivediamo. Grazie a voi. Grazie anche per aver attraversato la città per venire qua in studio con noi, dai, grazie. Bene, il consiglio municipale fa anche questo per l'amore del suo municipio. Grazie mille Davide.